Ezzio, sei a Sanremo. Che ci fai? È la tua arte che ti ha portato qui. Senti, il mondo ha bisogno della musica, ha bisogno di musica. Perché la musica siamo noi. La musica è una fortuna che condividiamo, che ci è arrivata e ce la cerchiamo. Noi mettiamo le mani ma ci insegna la cosa più importante che esista, ascoltare. Dove trovi tutta questa energia? La musica è una vera magia. Infatti, sapete che non a caso i direttori hanno la bacchetta, come ma. Allora, la musica è una fortuna. E soprattutto, come diceva il grande maestro Claudio Abado, è la nostra vera terapia. Ricordatevi sempre, la musica come la vita si può fare solo in un modo, insieme. Ciao. Grazie. 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 Grazie.